Il senso dell'attività di oggi, Beach Litter, non è solo pulire le spiagge ma anche analizzare i rifiuti che troveremo. Sì, la nostra Beach Litter è un'iniziativa che ha avuto sempre molto successo, tanto è vero che anche enti importanti come Ispra utilizzano i dati di lega ambiente che ogni anno censisce i rifiuti sulle spiagge italiane. Qui a Battipaglia è dal 2014 che portiamo avanti questa iniziativa. Mi sento di dire che quest'anno la spiaggia è più pulita, forse perché siamo già a giugno, di solito lo facciamo in maggio, ma per il Covid ovviamente abbiamo dovuto rimandare. Però resta un'iniziativa importante perché in base alla qualità dei rifiuti che noi troviamo possiamo capirne la provenienza. Oggi siamo insieme ai rappresentanti di lega ambiente Battipaglia Bellizzi che ci stanno spiegando le attività di Beach Litter. Questa è una delle prime attività, come dicevo in precedenza, che vengono fatte poco dopo il periodo di quarantena a causa dell'emergenza. Ed è una delle prime attività che noi stiamo facendo dopo la morte dell'amatissimo Presidente Silvio Petrone che ci avrebbe sostenuto in toto in questa iniziativa come lui soleva fare nei confronti di noi giovani soci. Grazie a tutti.